Inceneritore, cementifici, smog, rifiuti speciali e pericolosi, polveri sottili. La situazione ambientale di Piacenza è una vera e propria bomba ad orologeria, un mix a tratti drammatico tra imprenditoria ad alto impatto ecologico e una classe dirigente che ama riempirsi la bocca di rivoluzioni green, solo e unicamente in campagna elettorale, ma che poi, alla prova dei fatti, nella migliore delle ipotesi, sonnecchia sulle reali problematiche del territorio. È noto il conflitto che esiste tra economia e ambiente, come evidenziato di recente dall'Associazione Industriale di Piacenza, proprio perché l'eliminazione o la riduzione dell'inquinamento si traduce spesso in aumento dei costi industriali. Per il Movimento 5 Stelle di Piacenza è necessario dunque richiamare l'attenzione sul ruolo e le potenzialità dello Stato, quale facilitatore del dinamismo innovativo per realizzare in concreto la green economy, attraverso la volontà di tradurre la visione in realtà. Sappiamo tutti che c'è un grande conflitto tra economia e ambiente e ovviamente per poter aggiornare e innovare i processi industriali ci vuole tanto impegno, sia da parte degli imprenditori, degli amministratori, della politica. E' per questo che crediamo che uno Stato innovatore sia necessario e per poter ottenere quelle che sono le innovazioni nei processi industriali e anche nei prodotti è necessario che lo Stato sia veramente partecipe attraverso delle facilitazioni, dei veri e propri processi di facilitazione per poter ottenere quel dinamismo innovativo di cui noi abbiamo necessità come Stato. Per il Movimento 5 Stelle l'utilizzo di tecnologie ambientali nell'ottica di innovare permette di raggiungere il doppio obiettivo di eliminare o di ridurre l'inquinamento e di migliorare allo stesso tempo l'economia del processo industriale. Cambiare mentalità in un mondo che cambia vuol dire innovare in tutti i settori anche in quello dei processi industriali inquinanti. E' quindi importante che si uniscano le forze, le forze degli industriali, le forze della politica e degli amministratori perché si possano prevedere e anche proporre anche dei progetti di legge che vadano proprio in questa direzione perché bisogna attuare una vera e propria green economy. Questo però non può partire dalle singole piccole realtà, deve essere proprio lo Stato che deve fare questa scelta in modo determinato e quindi fare tutte le politiche necessarie per potervi arrivare.